Sicurezza nel centro storico della città di Campobasso, l'argomento più dibattuto nelle ultime settimane dopo i recenti fatti di cronaca, risse, spaccio di sostanze stupefacenti, accoltellamenti, un quadro sino a qualche tempo fa inedito per il capologo regionale è divenuto purtroppo realtà. Sulla delicata questione il 28 agosto ci sarà un consiglio comunale dedicato voluto dall'opposizione di centrodestra. La preoccupazione c'è, ci sono episodi di microcriminalità quasi quotidiani, per questo abbiamo concentrato il tema sul centro storico. C'è un monotematico che si discuterà mercoledì con varie proposte, in primis la sicurezza, presenteremo vari atti, già da diversi giorni ho segnalato anche in commissione centro storico di cui sono vicepresidente che la proposta che fare è quella di portare una sezione di pulizia locale all'interno del centro storico. Allora in primis bisogna fare un'azione ad alto impatto per quanto riguarda la sicurezza, quindi è questo che solleveremo. Poi eventi culturali, bisogna creare vari eventi per riportare gente al centro storico, così il buono allontana il cattivo. Quindi facendo eventi, creando degli eventi, diamo anche un'azione di rilancio per le tante attività commerciali che ad oggi soffrono tanto. Vado dagli ultimi avvenimenti di cronaca che stanno accadendo a Campobasso. Per il momento sono sempre le stesse persone, quindi più passaggi dei servizi dell'ordine, anche la polizia, solo che passano già una qualcosa, vigili urbani. Io personalmente non me ne sono mai accorta, forse i miei orari sono tranquilli, non so, l'ho sentito dire però. Avevo qua di fronte, a dieci metri. E ha visto, sente movimenti, insomma ha avuto preoccupazione? Come no, prima si poteva dormire tranquillo, adesso non si può dormire tranquillo. Principalmente di notte? Notte e anche di giorni, specialmente, non è solo di notte, anche di giorni. Ci vorrebbe un po' più di sorveglianza, anche in borghese, sarebbe meglio ancora. Quindi insomma c'è bisogno di un intervento pronto dell'amministrazione? Pronto intervento.